spaghetti zucchina e pesce spada con magic cooker. metto l'olio l'aglio e il pesce spada tagliato a pochettino goccio di vino metto il copecchio e faccio insaporire a fiamma medio alta per qualche minuto ora aggiungo una zucchina frattugiata, poco poco di sale fiamma alta in che riprende il bollore e poi fiamma bassa veramente pochissimi minuti poi metto gli spaghetti e l'acqua, un bicchiere di acqua ogni 100 grammi di pasta, un poco di sale copro con il coperchio magic cooker e faccio cuocere a fiamma alta finché inizia il bollore poi fiamma bassa per il tempo indicato sulla confezione della pasta mescolando ogni tanto molto più digeribili e cotti risparmiando tempo, acqua, gas e pentole da lavare grazie grazie grazie